Istituto Oikos nasce a Milano nel 1996 ed è un'organizzazione fondata da un gruppo di biologi e naturalisti guidati da una certezza comune. Difendere l'ambiente significa sostenere le comunità che lo abitano. Crediamo fermamente che non sia possibile promuovere alcuna forma di sviluppo senza proteggere le risorse naturali sulle quali tutti noi basiamo la nostra sopravvivenza. Questa convinzione guida il nostro lavoro da più di 25 anni in Italia e nei paesi del sud del mondo in cui operiamo. Lavoriamo tutti i giorni sul campo per difendere le risorse naturali, quindi i suoli, le foreste, l'acqua, la fauna, la biodiversità in generale. Lo facciamo al fianco delle comunità locali valorizzando i talenti delle persone e difendendo i diritti soprattutto dei gruppi più vulnerabili come donne e bambini. Lo facciamo per la natura e lo facciamo insieme collaborando a stretto contatto con le persone. Istituto Oikos è un'organizzazione prettamente scientifica, infatti non è soltanto stata fondata ma è guidata tutt'oggi e sul campo tutti i giorni da professionisti per l'ambiente, quindi biologi, naturalisti come abbiamo detto ma anche ingegneri ambientali, geologi, esperti in conservazione della fauna, in gestione delle foreste e in comunicazione ambientale. Ed è per questo che i nostri progetti si basano su un solido rigore scientifico che è tra l'altro uno dei valori statutari di Istituto Oikos, quindi ricerchiamo costantemente un'innovazione tecnologica, metodologica e adottiamo un approccio multidisciplinare in tutti i nostri progetti. Lavoriamo su ambiti e temi molto diversi ma con un obiettivo comune e cioè difendere l'ambiente e in parallelo promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità. Quindi costruiamo reti idriche e dighe per garantire l'accesso all'acqua pulita a chi non ce l'ha. Portiamo energia pulita in quei villaggi remoti che non sono connessi alla rete elettrica nazionale. Troviamo soluzioni concrete, sostenibili e replicabili per rispondere agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Condividiamo buone pratiche e strumenti per la sicurezza alimentare e il benessere sociale delle comunità più più vulnerabili. E poi un altro pilastro fondamentale è per Oikos la tutela della biodiversità, quindi sia ecosistemi fragili che specie a rischio. Questo perché un ambiente sano è in grado di fornire tutti quelli che definiamo servizi ecosistemici necessari alla sopravvivenza e al benessere dell'uomo. La biodiversità infatti è la moltitudine degli esseri viventi che ogni giorno ci forniscono cibo, combustibili, materiale da costruzione, purificano l'aria, regolano il clima, provvedono all'impollinazione e sostengono anche la nostra identità spirituale e culturale. Quindi difendere tutto questo significa anche difendere il nostro futuro. Agli interventi tecnici e strutturali affianchiamo in tutti i nostri progetti delle attività di educazione e sensibilizzazione. Perché? Perché le crescenti sfide politiche, ambientali e sociali richiedono all'educazione e alla sensibilizzazione un ruolo cruciale nel costruire una nuova generazione di cittadini motivati e impegnati attivamente per promuovere il cambiamento e rispondere alle principali sfide ambientali della nostra epoca, quindi cambiamenti climatici, degrado ambientale e povertà. Negli anni OICOS ha promosso moltissime campagne sociali di educazione e sensibilizzazione, lo abbiamo fatto sui temi più importanti, quindi appunto i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare, la tutela della biodiversità e negli ultimi tre anni stiamo lavorando moltissimo sul tema dell'inquinamento da plastica nei mari e più in generale sull'importanza di tutelare i mari e gli oceani. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la nostra adesione alla campagna di World Rise 30x30. Gli oceani e i mari infatti ricoprono i tre quarti del nostro pianeta e sono un patrimonio essenziale per la vita dell'uomo. Innanzitutto ospitano una ricchissima biodiversità, moltissime forme di vita e poi influenzano in maniera determinante il clima, quindi sono una fonte di benessere e di prosperità per l'essere umano. E proteggerli è quindi il nostro compito perché tutto questo è in pericolo e ciò vale anche soprattutto nel mar Mediterraneo. Questo è dovuto non soltanto all'inquinamento da plastica che è appunto un tema su cui come abbiamo detto Icos è molto impegnata in maniera attiva e concreta, ma in generale per l'eccessivo sfruttamento delle risorse marine costiere. E quindi proteggere il 30% dei mari entro il 2030 ci è sembrata una sfida ambiziosa e necessaria e per cui ci siamo appassionati subito a questa missione, a questa causa. Noi di Icos contribuiamo in maniera attiva e concreta alla campagna 30x30 con delle azioni soprattutto sui nostri canali social ma in generale sui nostri canali di comunicazione. Lo facciamo con l'obiettivo di rendere le persone che ci seguono, i nostri sostenitori, consapevoli innanzitutto dell'emergenza globale in cui versano i mari e come abbiamo detto in particolare il Mediterraneo, però anche condividere le possibili soluzioni. Questo perché non è ancora troppo tardi per cambiare le cose. Le soluzioni esistono, basta esserne consapevoli e cominciare a fare dei passi concreti per impegnarci tutti in maniera attiva e concreta per difendere questo patrimonio fondamentale per tutti noi. L'adesione di Icos alla campagna 30x30 si inserisce nell'ambito di un programma più ampio con cui ci impegniamo a proteggere l'antura, le risorse, gli ecosistemi e la biodiversità in generale. Vogliamo continuare ad investire in progetti e in programmi che mettano al centro la tutela dell'ambiente e quindi la salute delle persone, però per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Per questo invitiamo chi ci sta seguendo, chi ci sta ascoltando a iscriversi alla nostra newsletter, a seguirci sui nostri canali social e per chi volesse fare un passo in più, sostenere concretamente i nostri progetti. Noi infatti condividiamo costantemente con chi ci segue spunti e proposte per contribuire attivamente alla costruzione di una società più equa, più giusta e più verde. Tutte le informazioni su come aderire si trovano sul nostro sito www.istituto-oicos.org. Proteggere la natura significa proteggere noi stessi e significa anche mettere al sicuro non solo il nostro futuro ma quello delle generazioni future, per cui è una sfida che siamo chiamati a cogliere, dobbiamo farlo ora e possiamo vincerla soltanto insieme.